Oggi leggiamo Il trattore della nonna di Anselmo Roveda e Paolo Domeniconi. La nonna e il nonno si svegliano all'alba, prima o dopo il canto del gallo, non importa. Intanto quello fa a modo suo, una volta alle 3.33, una volta alle 6, un'altra volta alle 15.47. La mattina dopo una notte di pioggia, l'aria è azzurra e il prato più verde. Il tetto della cascina sgocciola ancora, i conigli sgranocchiano e i maiali sono più contenti, c'è fango dappertutto. Anche la nonna è felice, ama i giorni dopo la pioggia. Una passata di lucida labbra, gusto lampone e via, fuori casa. Le piace mettere gli stivali alti, fare splash nelle pozzanghere e guidare il trattore grosso, quello rosso con le ruote grandi. Poi prende dal garage il carro a rimorchio. Quest'estate insieme a Davide e Caterina gli hanno dato anche un nome proprio, Amico Tamagnun. Al trattore no, un nome lo aveva già. Gliel'ha dato il nonno, quando l'hanno comprato, Signora Berta. Così la nonna, anche d'autunno, anche quando i nipoti sono in città, apre il garage e dice Buongiorno, Signora Berta. Buongiorno, Amico Tamagnun. Oggi c'è il sole, si va a lavorare. La nonna, insieme a Berta e Tamagnun, va alla collina alta a prendere i fichi. Poi scende al piano per le mele, quindi va al campo a cogliere le pere. È ora di tornare. Prima, però, ci vuole una bella merenda di uva e mortadella e un passaggio al bosco a cercare mirtilli e funghi. Nel frattempo, il nonno ha lavato i piatti della cena della sera precedente. C'è un film bello in tv, mica lo perderemo dietro all'acquaio, aveva detto nonna. Prima di lavare i piatti, c'è il tempo per fare la marmellata di prugne, con il microonde. Bastano dieci minuti e non si sporca niente. Il nonno l'ha imparato su internet e di impastare e infornare una crostata di ciliegie. Poi ha raccolto il bucato sporco. L'ha messo in lavatrice. Programma rapido. Trenta minuti. Giusto il tempo per scaricare le mail e parlare un po' con gli amici lontani. Via Radio CB. Drin fa il forno. Bzzzzzz la lavatrice. È passato il tempo e si può stendere. Fuori c'è il sole e un trattore in arrivo. Giusto in tempo per la torta. Gnam!